Ciao a tutti, sono qui da Osaka. La mia prima cena, come vedete, sono gli akitori. Guardate, sembra uno ristorante tipico giapponese nella zona di Nampa. Abbiamo deciso, in compagnia del nostro amico giapponese, che ha conosciuto il mio amico di mangiare gli akitori di pollo. Molto molto buono, veramente molto buono. Sono di tre tipi differenti. Anche questo. Ci hanno dato anche una sorta di pasto, e ti senti da mangiare con la sottolina qua. E' molto molto buono. Per lui è un ristorante tipico giapponese. Guardate, davanti stanno cucinando. Stanno cucinando, stanno preparando gli akitori. Ciao, buonasera. Io sono Masataka. Lui è Filippo. Lui è venuto in Giappone. Benvenuto. L'ha conosciuto il mio amico con la mezza Facebook, che è qua di Divertivo Osaka. E ora ci seguo lui qui per la prima volta. E ci ha portato lui qua, io non conoscendo. Mi fai nel ristorante. Io qui sono un ristorante. E questo è Yakitori. Yakitori. E anche il logico. Quindi, ora mi finisco la mia cena. Questa è la ciotola con l'antipasto che ci hanno dato. Ovviamente ci danno sempre il pratico, il patretino bagnato, le pulite le mani. E, come vedete, è simpatico e l'antipasto. E tutto lo sono buono. Adesso, poi dopo, faremo un giro. Qui in zona e vediamo com'è. E vi faccio vedere, poi faccio filmare, vi faccio vedere com'è la zona di Tampa. Per ora, vi saluto, qui scuola mia cena e ci vediamo. E ci vediamo. Oh, grazie. Ci vediamo poi dopo. Ciao, ciao. Questo è molto buono.